no dai ragazzuoli no onestamente no così probabilmente è anche troppo e probabilmente chi ne dopo aver letto questa notizia è presumibile anche il fatto che abbia un barzotto abbastanza prepotente e onestamente arrivato a questo momento capirei nel momento in cui no bisogna buttarla effettivamente in cacciara in questo momento capirei a tutti gli effetti perché si sta parlando ovviamente di McKennie l'unico nome effettivamente caldo del calcio mercato invernale della Juventus e peraltro nome in uscita neanche in entrata lì si entrerebbe proprio nel metaverso sarebbe proprio un'altra concezione vedendo soprattutto quello che la Juventus sta attraversando in questo periodo ma obiettivamente una volta lette le cifre onestamente è troppo anche per me e quindi poi per forza di cose io a questo punto chi ne me lo immagino giustamente in questo momento che che stia stappando una bottiglia di champagne insomma c'è nel senso non può essere altrimenti comunque ragazzoli buongiorno buongiorno e se ieri appunto si si parlava di una notizia abbastanza importante perché comunque proveniva da Di Marzio stamattina abbiamo proprio le prime cifre le prime cifre offerte e le cifre effettivamente richieste dalla Juventus e se ieri mattina un mi piace comunque era quanto meno doveroso oggi è proprio un obbligo cioè onestamente non ho altro da aggiungere è un obbligo oggi un mi piace per questo video è un obbligo né più né meno e ovviamente dato che ci siamo se ancora non l'avete fatto iscrivetevi che è sempre una cosa importante una cosa giusta è una cosa che comunque fa sempre bene perché McKennie, Leeds, un matrimonio che sembra essere sempre più vicino ieri era arrivato il sì del giocatore anzi ad onor del vero l'altro ieri ma ieri mattina ne abbiamo parlato e ieri sera è arrivata anche la prima offerta del club inglese per il giocatore dove io nel video vi avevo detto di stando alle ultime notizie pare che la Juventus chieda tra i 20 e 25 milioni per il cartellino del giocatore no quindi presumibilmente l'offerta si aggirerà più o meno su quella cifra a grandi linee mentre invece è Cass la prima cifra offerta del Leeds per McKennie è 28 milioni la Juventus pare abbia chiesto in risposta 35 e viene da sé che comunque quando ballano 7 milioni fai un pochino di sacrificio a te faccio un pochino di sacrificio io ma non è nel senso che tu me ne proponi 10 e io te ne chiedo 50 che ballano 40 milioni se ne ballano 7 e ballano soprattutto per un club di Premier League che 7 milioni probabilmente te li tira fuori per starnutire evidentemente è perché comunque sì la volontà per chiudere c'è magari te punti un pochino no a rialzare i 28 milioni ma sta di fatto che già di base loro ti hanno offerto 28 milioni per il cartellino di Weston McKennie e se ieri mattina ero impreparato questo giro so già anche quello che è il valore del giocatore secondo Transfermarkt 21 milioni quindi già siamo a 7 milioni sopra e che insomma potrebbe essere un problema questo da un certo punto di potrebbe essere un problema mica da ridere onestamente no se ci andiamo a pensare già di base loro ti hanno offerto 7 milioni in più rispetto al valore che Transfermarkt dà mentre invece la Juventus ne vuole addirittura 14 in più ma mica è finita qui mica è finita qui qui si parla di valutazioni quella che il Leeds reputa ideale quella che la Juventus reputa ideale quella che Transfermarkt reputa ideale e poi c'è il bilancio perché io proprio per una mera curiosità sono andato a cercare quello che è il residuo a bilancio di Weston McKennie sia al 31 di dicembre che eventualmente al 30 di giugno se il Leeds dovesse prendere il giocatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto diritto di riscatto quello che è insomma perché ad oggi e con ad oggi intendo al 31 di dicembre il residuo a bilancio del giocatore è di 11 milioni e mezzo se per puro caso il giocatore dovesse partire con la formula del prestito più obbligo il residuo a bilancio del giocatore al 30 di giugno sarà di 8,2 milioni e se si parla già di base di un'offerta di 28 milioni significa che come minimo se la Juventus dovesse effettivamente accettare questa cifra qui e il Leeds dovesse comprartelo a titolo definitivo adesso sarebbero ben 16 milioni e mezzo di plusvalenza se dovesse per 28 milioni comprartelo a giugno si parlerebbe di 20 milioni di plusvalenza io non posso immaginare chi ne è io non posso immaginare chi ne è in questo momento come possa aver preso questa notizia ma a parte tutto davvero da un certo punto di vista mi spiazza anche più che altro perché mi ero fatto un'idea nel momento in cui magari ho letto che la Juventus adesso effettivamente chiede tra i 20 e 25 milioni ho detto vabbè tutto sommato ci sta alla fine è un prezzo che secondo me si può anche considerare giusto per un giocatore del calibro di McKennie è vero che magari la Premier ha più moneta suonante rispetto a tutte le altre e quindi magari puoi cercare di forzare un pochino la mano per puntare più sui 25 che sui 20 mentre invece loro cazzo proprio di prima offerta te ne hanno fatti 28 tu ne vuoi 35 e io l'unico consiglio che effettivamente mi sento di dare alla Juventus è quello di non tirare troppo la mano perché sai magari esageri e sti qui gironi maroni colgono un'altra offerta un'altra possibilità in giro per l'Europa e magari ti vanno a prendere qualcun altro io onestamente spero di no questa qui è una cosa che nel momento in cui magari ti arriva la prima offerta e non ballano poi così tanti milioni magari la puoi chiudere anche in tarda mattinata nel pomeriggio alla brutto dio proprio alla sera però 28 milioni almeno la Juve ne vuole 35 magari per 30 31 o magari 30 più qualche bonus insomma si potrebbe chiudere si potrebbe effettivamente chiudere per queste cifre con una plusvalenza minima minima di 16 milioni e mezzo stando alla cifra minima offerta dall'IS in attesano poi di ulteriori notizie ecco però cavoli in un momento come questo almeno 16 milioni e mezzo per me Kenny se già la situazione era difficile prima adesso proprio ci sono tutti i presupposti per renderla noi in un qualche modo ancora più complicata però vabbè questo e poi non so chi cazzo stia mandando avanti questa operazione se Cherubini in un qualche modo sottotraccia se manna se scanavino o ferrero con gli occhi dolci no come il gatto con gli stivali di crash che ti fa di non di crash di shrek pardon che ti fa gli occhiettini e non so come sei riuscito a convincere il lizzo non lo so non so come sia effettivamente possibile ma questo è onestamente se già non ero disperato prima all'idea di privarmi di un mckennie pensa di fronte a una trentina di milioni e quindi ragazzuoli penso che anche questo tranquillamente si possa definire un buongiorno voi fatemi sapere come l'avete presa io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve ciao 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 Ciao